Abbiamo intenzione di rimanere qua finché non abbiamo risposte grosse, anche a costo di rimanere giorni e giorni. Ci alterneremo e rimaneremo qua per giorni, se si fosse il bisogno. Noi vogliamo il latte pagato dagli industriali che ce l'hanno l'entrata per pagarci il latte, perché ce lo stanno pagando una miseria a noi per vendere il formaggio caro loro. Un problema di 30 anni? Noi vogliamo una cosa in mano, un contratto in mano, sicuro, garantito. Quello, vogliamo far vivere le nostre famiglie. Che arrivi il prezzo del latte, basta. La gente vuole quello, non vogliamo noi. Arriva un punto dove sentiamo la parola un euro più IVA per almeno 5 anni, se no in questo momento noi da qui non ci spostiamo più. Finché riusciamo rimariamo qua, finché non sentiamo risposte, sicuro al 100%. Vedete questo intervento di Salvini. Non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro, Salvini. Ma di cosa stiamo parlando? Di te siamo orfai d'ande. Non potremmo lavorare in un modo dignitoso, perché stiamo lavorando sotto prezzo. Non compriamo neanche le spese in questo momento. A noi ci interessa che il nostro prodotto venga pagato equamente al lavoro che ci vuole per farlo. Noi Salvini e non Salvini, noi Salvini e non Salvini siamo qua e rimaniamo qua e il traffico rimane bloccato finché non sentiamo risposte diverse e soprattutto concrete. E rimaniamo qua. Noi siamo bloccati, non da 24 ore. Si sta andando avanti da 5-6 giorni. Noi non stiamo facendo una protesta contro i camionisti. Sono dei lavoratori come noi. Però l'unico modo per farsi sentire è creare disagio. Purtroppo ne piangiamo, sempre la classe povera.